Siamo dati Gesù e Maria e bentornati ad una nuova puntata del Catechismo Romano Tridentino che purtroppo con una serie di vicissitudini ha avuto un periodo un po' di sospensione, mi dispiace perché questo tipo di Catechesi è una Catechesi importante, formativa, perché il Catechismo dobbiamo farlo sempre, tutti, anche io, e avere quella lucidità e chiarezza dottrinale che è assolutamente necessaria per ben condursi. La Santa Madre Chiesa, per grazia di Dio, nel corso della storia ha sempre fatto in modo ha avuto questa cura proprio che, redigendo a tal fine dei differenti Catechismi, che i propri figli avessero una bussola ferma con cui regolarsi. È molto importante questo perché nei Catechismi, in tutti i Catechismi, nel corso degli anni diciamo che li ho sviscerati tutti, da quelli moderni, dagli ultimi, dal nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, qualcosa anche del compendio di un nuovo Catechismo fatto da Benedetto XVI, i cicli di Catechesi sul Catechismo di San Pio X e adesso questo sul Catechismo Romano. I tempi cambiano, certamente, i contesti storici sono differenti, ma come si vede la dottrina è sempre la stessa e queste, diciamo così, fonti, io non le vedo personalmente come alternative. Quindi, ah, se fai questo non fare quell'altro, no. Sono delle fonti complementari, nel senso che colgono degli aspetti e delle sfumature specifiche, che chiaramente risentono del, come dire, del contesto storico e quindi della finalità immediata per cui sono stati scritti, no, ed emanati. Quindi, qui si vede, per esempio, nel Catechismo Romano che c'è una flato, quindi una sollecitudine, forte e anche un'estensione dottrinale, perché i parroci dovevano avere degli strumenti efficaci per formare un pochino beni fedeli, perché siamo in un tempo in cui la guerrita riforma protestante andava in giro, seminando Mambassa, e pescava, come sempre accade, sull'ignoranza del popolo di Dio. Guardate che oggi le sette fanno le stesse identiche cose, quindi a partire da quelle maggiormente note, come i testimoni di Geova, a quelle, diciamo, di livello un pochino meno popolare, ma non per questo meno diffusi. Sono tantissimi gruppi e gruppuscoli che si formano, anche tra cattolici, riuniti intorno alla, magari, rivelazione di X o di Y, o al personaggio carismatico Z o K, o alla mistica F o Z, che possono, a volte, diventare altamente forbianti. Quindi il Catechismo mette a disposizione di chiunque lo voglia la cosa fondamentale per la nostra fede e per la nostra salvezza, che è la rivelazione pubblica. San Giovanni della Croce dice esplicitamente che in Cristo Dio ci ha detto e ci ha dato tutto e che di per sé non occorre niente altro, niente di più e niente di diverso da questo per conseguire l'eterna salvezza. Le altre manifestazioni che si sono susseguite nel corso della storia, soprattutto quelle che hanno la benedizione e la provazione della Chiesa, che ne so, le rivelazioni sul Sacro Cuore, per esempio, che sono bellissime, importantissime, sono bellissime, importantissime, ma sono sempre un accessorio. È come l'aria condizionata, mi si perdoni, rispetto alla macchina. La macchina è la macchina, l'aria condizionata che si monta nelle macchine ha bisogno di una macchina per esservi montata. Cioè se tu c'è un impianto di condizionamento dell'aria da macchina, non c'è la macchina, dove ho monti. Ok? Quindi questo è molto importante. Certo, questo magari può essere un po' più faticoso, può essere un po' meno allettante per la nostra, tra virgolette, gola spirituale, no? Perché certe altre forme di manifestazioni magari stimolano altri sapori, ripeto, anche spirituali, un pochino più allettanti, no? Invece la fatica di mettersi in ascolto del catechismo e della rivelazione pubblica può a potrati essere anche impegnativa, non lo metto in dubbio. Ma quella che ci mette al sicuro, al riparo, è quello che ci consente anche, non soltanto, di non andare appresso al primo che chiacchiera o essere addirittura accalappiati da ambienti malzani, ma ci consente anche di orizzontarsi, di avere la bussola in periodi, come quello che stiamo vivendo, di palese confusione e smarrimento anche dottrinale oppure di contestazione a volte della perennità e dell'immutabilità della dottrina. Perché adesso sapete che il problema negli ultimi 60-70 anni è che attraverso, come dire, le pur giuste aspettative, ma non è questo il termine, esigenze della pastorale, pastorale significa modalità con cui si traduce in una maniera consona, adatta e empatica anche l'immutabile messaggio evangelico. Però il modo, come spiega ben Sant'Ommaso, il come è un accidente proprio della sostanza, cioè una modalità con cui io manifesto la sostanza però. non è che il modo può cambiare la sostanza, semplicemente la manifesta. Il problema è che se io non faccio attenzione e se non metto bene dei paletti, c'è il pericolo che il modo poi diventi la manifestazione di un'altra sostanza con conseguente confusione, smardimento e robe del genere. Ora, da questo si sfugge e ci si difende come formandosi. Formandosi. Io ricordo Monsignor Petrocchi a noi giovani preti, ve lo raccontavo tante volte, diceva, e direbbe sicuramente anche adesso, guardate, sì sì sì, le cose, ordinare la parrocchia, gli impegni, le cose, però quello su cui dobbiamo impegnarvi è formate i fedeli, formate i fedeli, formazione, 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 ripeteva sto mantra, formazione, 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 ha ragione, e di fatto poi il nostro Signore mi ha immesso in questa attività sacerdotale a 360 gradi, quindi con un impegno che travalica anche i confini della parrocchia pluriennale, perché c'è bisogno. Vabbè, detto questo, Siamo arrivati al quarto articolo del Credo, intitolato Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, il cuore della nostra fede, no? Leggo, come sempre, facendo poi qualche piccolo commento, evidenziazione, come di consueto, no? L'articolo 4 Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, significato dell'articolo. Protestando di non conoscere altro che Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso, l'Apostolo mostra luminosamente quanto sia necessaria la conoscenza di questo articolo e quanta cura debba il parroco impiegare affinché i fedeli evochino spesso nel loro animo la passione del Signore. A tal fine, debbono praticarsi gli sforzi più assidui affinché i fedeli, stimolati dal ricordo costante di sì segnalato beneficio, si consacrino tutti al pensiero della bontà e dell'amore di Dio verso di noi. Con la prima parte di questo articolo della seconda parte, vediamo più tardi, la fede ci impone di credere che Gesù Cristo fu infisso alla croce, mentre Ponzio Pilato, in nome dell'imperatore Tiberio, governava la provincia della Giudea. Fu catturato, infatti, deriso, oppresso da ogni sorta di insulti e di tormenti per essere alla fine sollevato sulla croce. L'anima di Gesù Cristo fu saturata di pene. Patì. Nessuno dovrà mettere in dubbio che la sua anima nella parte inferiore non fu insensibile agli spasi. avendo egli realmente assunta l'umano natura è necessario riconoscere che la sua sensibilità fu suscettibile delle più atroci sofferenze. noi lo sentiamo gemere. L'anima mia è addolorata a morte. In realtà, pur unita alla persona divina, la natura umana percepì tutta la cerbità della passione come se quella unione non avesse avuto luogo poiché tutte le proprietà della natura umana e della divina si erano perfettamente conservate nella persona di Gesù Cristo. Quindi rimaneva in lui ogni elemento passibile e mortale e viceversa tutto ciò che vi era di impassibile ed immortale come compete alla natura divina manteneva le sue qualità peculiari. Ora, è bellissimo e importantissimo questo particolare perché viene evidenziato? Perché nella mente magari del cosiddetto uomo della strada della persona comune potrebbe affacciarsi il pensiero e dice sì l'hanno messo in croce ma tanto era Dio quindi essendo Dio sì ha sofferto? Bah! Insomma così è così era Dio ecco noi dobbiamo sempre pensare che in forza dell'unione ipostatica questo è un mistero però dobbiamo avere chiare le coordinate di possibile per quanto limitata comprensione di questo mistero che sono le seguenti Gesù è vero Dio è vero uomo per cui le proprietà di entrambe le nature nell'unico soggetto della sua persona fanno perfettamente ciascuno quello che è proprio santo Tommaso d'Aquino commentando questo particolare dimostra oggi non ci chiedono più che durante la passione avete sentito cosa dice il catechismo di Romano l'anima nella sua parte inferiore soffri perché dice nella parte inferiore santo Tommaso lo afferma chiaramente Gesù era beato perché le sue facoltà spirituali il suo intelletto in particolare contemplavano ininterrottamente in visione beatifica la Santissima Trinità cioè Gesù Cristo è stata l'unica persona che nella sua natura umana terrena pur essendo viatore passibile soggetto a tutte quante le nostre miserie perché come spiega San Paolo ha preso una carne e un corpo simile a quella del peccato però al tempo stesso per noi non è tanto semplice comprendere queste cose come è possibile che al tempo stesso una persona soffra l'incubo atroce della passione e al tempo stesso nella parte superiore abbia la visione beatifica e sia beata e qui dobbiamo fare uno step indietro perché si comprendis e torniamo sempre alla all'agio di Sant'Agostino non est deus se lo potessimo comprendere perfettamente non sarebbe Dio sarebbe una cosa alla nostra portata però non dobbiamo dubitarlo nella parte superiore c'aveva la visione beatifica sì nella parte inferiore non solo che soffriva acerbissimamente ma San Tommaso dice poiché la natura umana di Gesù era una natura perfetta quindi integra quindi la sua sensibilità rispetto alla nostra era enormemente più accentuata e sviluppata per cui detto fuori di metafora se a me danno uno schiaffo con una certa violenza era un mare parecchio ma se lo danno a Gesù lo stesso schiaffo con l'identica violenza fa male enormemente di più perché la sua sensibilità a differenza della mia è proprio di una natura integra e quindi perfettissima e quindi è tutto quanto portato al massimo della perfezione quindi fugate le idee che siccome a Dio la sua sofferenza è soltanto apparente questo non ha detto alcuni gnostici nei primissimi secoli del cristianesimo oppure sì no c'è stata però tutto sommato insomma era in qualche modo attutita se non addirittura quasi neutralizzata dalla sua divinità no questi non sono pensieri consoni né tantomeno cattolici sotto Buonzio Pilato il parroco mostrerà come la speciale cura con cui vediamo qui rilevato che la passione di Gesù Cristo accade nel tempo in cui Buonzio Pilato governava la provincia della Giudea svela anzitutto il proposito di far sì che la conoscenza di un evento così grandioso e prezioso riuscisse per tutti più sicura indicando il momento preciso anche l'apostolo Paolo usò la medesima precauzione nella lettera a Timotio nella prima del capitolo sesto sesto in secondo luogo mira a far constatare l'avveremento della profezia pronunziata dal Salvatore stesso lo daranno in balia dei gentili per essere schermito flagellato e crucifisso quindi questo particolare è finalizzato a radicare nella storia l'evento salvifico sapete che tra le varie attacchi fatti contro il Vangelo e la rivelazione dal diavolo e dai suoi collaboratori c'è stato neanche troppo sopito nel secolo scorso ne hanno dette di ogni su questo argomento la messa in dubbio della storicità delle vicende di Nostro Signore e dei Vangeli meno male che i romani pagani nei testi di Vitaccio e di Svetonio che sono citano chiaramente con nomi e cognomi questo episodio confermando il credo riportano questi fatti per cui oggi come oggi non è razionalmente possibile mettere in dubbio la storicità di Nostro Signore Gesù Cristo tu puoi non credere che è il figlio di Dio ma che non sia esistito e che non abbia patito sotto Ponsio Pilato non è oggetto di discussione a meno che uno non voglia come dire rifiutare le incontrovertibili testimonianze storiche perché Gesù Cristo fatì il supplizio della croce ugualmente è da attribuirsi ad un divino proposito la preferenza data alla morte di croce e precisamente fu volere divino che la vita rifluisse su di noi proprio di dove era scaturita la morte il serpente che mediante un albero aveva vinto i nostri progenitori fu sconfitto da Gesù Cristo mediante l'albero della croce questo è un tema tipico della teologia patristica l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della croce quindi questa contrapposizione tra questi due legni un legno che è diventato conto di maledizione e un legno di per sé maledetto come il legno della croce che in croce ci andavano i reglietti proprio appunto i maledetti proscritti dal popolo che diventa santificato dal corpo e dalla sofferenza della morte di Cristo appunto lo strumento di benedizione per Antonomasia i santi patri hanno ampiamente svolto le ragioni molteplici che possono addursi per mostrare quanto fosse conveniente che fra le varie forme di supplizio il redentore sostienesse quello della croce i parroci però si limiteranno ad avvertire fedeli che per essi è sufficiente credere che il salvatore prescelse tale genere di morte come il più acconcio alla redenzione del genere umano appunto perché fra tutti è più umiliante e ignominioso infatti non solamente il supplizio della croce fu sempre ritenuto dai pagani come abominevole e infamante ma anche nella legge di Mosè è detto maledetto colui che è confitto nel legno qui si fa riferimento cioè la sapienza ispirata dei padri o si è chiesta tante volte ma proprio la croce quindi andando evidentemente a cercare le ragioni della convenienza somma di questo strumento di supplizio perché teniamo sempre presente una cosa che noi non le comprendiamo ma le opere di Dio sono perfettissime per cui non è che Gesù Cristo è morto in croce così vabbè c'erano tante forme di morte possibili stiamo ai tempi dei romani non sono un cittadino romano e vabbè andrò in croce no no questa era una cosa preordinata e predisposta dalla divina sapienza perché proprio quello era il tipo di morte sommamente conveniente per la prevenzione del genere umano perché questo è un aspetto che anche il grande Sant'Anselmo d'Aosta nel Cur de l'Ussomo ha approfondito proprio quella morte perché solo quella morte con tutto il corollario di inumane e indicibili sofferenze fisiche psichiche morali e spirituali può offrire al Padre una riparazione perfettissima per tutte le colpe commesse dal genere umano dal peccato originale all'ultimo peccato che si commetterà sul pianeta terra è vero e lo sappiamo questo lo diceva già Santa Teresa che per la dignità del soggetto anche una goccia di sangue sarebbe bastata la redenzione anzi in questi giorni abbiamo cominciato le meditazioni molto belle sulla vita interna di Gesù Cristo e di Suorce Cidiabai addirittura Gesù ha spiegato che una lacrima versata poco dopo l'incarnazione nel grembo di Maria Santissima sarebbe stata sufficiente a redimere il genere umano questo è ovvio dipende dalla dignità del soggetto la dignità del soggetto è infinita d'accordo però nonostante questo diceva allora Dio perché fa queste cose se basterebbe una goccia del sangue di Cristo perché tutte quelle sofferenze perché certo che di per sé per la dignità del soggetto offeso basterebbe una lacrima o una goccia di sangue il problema è che la divina giustizia è offesa in maniera continua e perpetua in svariatissime forme e ciascuna colpa questo non dimentichiamolo mai reclama una pena dinanzi alla divina giustizia e chi le paga tutte quante quelle quelle penne in maniera consona in questo caso la dignità del soggetto offeso rientra in campo perché perché solo lui avendo la stessa dignità del soggetto offeso che è la divinità e al tempo stesso non essendo partecipe in nessun modo del peccato perché Gesù non ha né peccati originali né peccati attuali può offrire una riparazione perfetta questo è il motivo della redenzione queste cose dobbiamo dobbiamo capirle un po' per quanto è possibile cioè se io che sono un peccatore io facciamo così dice signore mio guarda voglio pagarla tu mi metti in croce per tutta la vita mi scarichi contro tutte le sofferenze possibili immaginabili tutte le malattie tutto quello che posso sopportare vogliamo fare così se io avessi fatto una cosa di questo genere senza che ci fosse stata la redenzione nostro signore dice è io che ci faccio di tutte le tue sofferenze uno tu sei un uomo tu sei una creatura anzi una creatura prevalicatrice cioè che ha usato mettersi contro di me secondo tu sei colpevole tu sei colpevole che cosa mi offri tutto questo serve a farci aumentare deve servire a farci aumentare la nostra gratitudine nei confronti di quello che ha fatto per me nostro signore l'esecrabile dimenticanza in cui lo relegano la stragrande maggioranza degli esseri umani che manco ci pensano a queste cose è qualche cosa da fare inurridire cielo e terra noi saremmo spacciati noi saremmo perduti cioè dire che Gesù è il salvatore non è una una frase fatta che abbiamo parlato da bambino a catechismo Gesù è il salvatore perché è morto per i nostri peccati ci ha salvato e va bene certo che è così ma queste non possono diventare frasi fatte d'accordo come dire imparatice vuote di contenuto sono cose molto serie queste qui sono cose molto impegnative non è un gioco non è uno scherzo noi saremmo tutti quanti spacciati perduti non ci sarebbe nessuna possibilità di salvezza nessuna numero 57 questo è un pochino più articolato spesso si deve esporre al popolo la passione del Signore il parroco ricordiamo sempre l'afflato di questo catechismo che ecco dà lavoro ai parroci perché formino i fedeli chiaramente i fedeli che si lasciano formare che ti mettono in condizione di poterli parlare il parroco non tralascerà di narrare la storia contenuta in quest'articolo che i santi evangelisti espongono con la massima dileggenza affinché i fedeli posseggano una chiara nozione di quei capisaldi del mistero che più appaiono necessari per corroborare la verità della nostra fede in tutta la religione e la fede cristiana appoggiano come su granitica base scusate in verità tutta la religione e la fede cristiana appoggiano come su granitica base su questo articolo posto il quale il resto si regge perfettamente tra le difficoltà in cui può imbattersi l'intelligenza e la ragione umana senza dubbio il mistero della croce appare come la più ardua di tutte è appena concepibile che la nostra croce che la scusate la nostra salvezza possa dipendere da una croce e da colui che vi fu confitto ma è proprio qui che si ammira secondo la frase dell'apostolo la suprema provvidenza di Dio vedendo che il mondo con la scienza non lo aveva riconosciuto nelle opere della sua divina sapienza piacque a Dio di salvare mediante la follia della predicazione coloro che avrebbero creduto nessuna meraviglia dunque se i profeti prima dell'avvento di Gesù Cristo e gli apostoli dopo la sua morte e risurrezione si adoperarono così tenacemente a persuadere gli uomini che egli era il redentore del mondo inducendoli all'ossequio e all'obbedienza verso il crocifisso appunto perché il mistero della croce costituisce il fatto più strano per l'umana ragione il Signore non ha mai cessato dopo il primo peccato di annunziare la morte del proprio figlio mediante gli oracoli dei profeti e gli episodi prefigurativi qui adesso seguo una rassegna meravigliosa di tutte quante le figure biblico vedero testamentari e gli eventi vetero testamentari che prefigurano il mistero della croce su questo i padri della chiesa hanno scritto delle pagine veramente edificanti e meravigliose allora ecco qualche evocazione breve delle figure a bene soppresso dalla gelosia del fratello a bene ucciso da caino e figura di cristo crocifisso il sacrificio di isacco padri che dicono isacco portato da abramo per essere immolato sulla cima del monte viene sostituito da una diete e invece tuo signore al tuo proprio figlio ci sarebbe stata nessuna sostituzione il sacrificio lo avrebbe consumato lui e che più cruento di quello non si poteva neanche immaginare no? poi l'agnello immolato dagli ebrei all'uscita dall'Egitto quando Dio ordinò per mezzo di Mosè la notte di Pasqua doveva uccidere un agnello immolarlo e segnare con il sangue gli stipidi delle porte dopodiché lo cuocete e lo mangiate il motivo per cui a Pasqua mangiamo l'agnello anche noi no? agnello di Dio che toglie i peccati del mondo solo le porte segnate da quel sangue faranno passare oltre l'angelo sterminatore che è figura del diavolo cioè chi è bagnato del sangue di Cristo non può essere reclamato dal demonio il demonio non può fargli del male ancora il serpente di bronzo innalzato da Mosè nel deserto di questo ne parla Gesù no? come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo quell'episodio un po' particolare no? gli ebrei mormoravano mormoravano significa che parlavano male contro Dio e contro Mosè perché si lamentavano di quello che stavano vivendo nel deserto e a un certo punto dice il testo in conseguenza di questa lamentela cominciano a spargersi dei serpenti verenosi che mozzicavano gli israeliti e morivano come facciamo? Dio dice fatti un serpente di bronzo mettilo su un'asta chiunque dopo essere morsicato guarderà quell'asta sarà santo chiara allusione alla croce no? perché sulla croce anche qui i padri della chiesa il serpente antico si era antorcinato dietro l'albero della conoscenza del bene e del male no? e da lì attraverso le sue spire aveva tentato la donna no? e sulla croce che è successo? che quel serpente è stato inchiodato insieme a Cristo crocifisso sulla croce è stato inchiodato è ridotto alla alla non più pericolosità già che stasera non vengono le parole quindi alla 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 inefficacia diciamo così l'azione del demonio per chi chiaramente guarda l'asta di bronzo con il serpente trasversale cioè Cristo crocifisso circa poi le profezie è troppo noto perché occorre esporre largamente qui quanti pronunziarono varicine sull'una e sull'altra qui sono una montagna di salmi il profeta Esaia tutte quante le cose che nel corso dell'anno liturgico la chiesa sottopone alla nostra attenzione pensate Esaia nel tempo d'avvento o Esaia durante la settimana santa i quattro canti del servo del signore quindi a go go Davide cioè i salmi nei quali abbracciano tutti i misteri della nostra di quali abbracciano tutti i misteri della nostra attenzione gli oracoli di Esaia risultano così espliciti e limpidi da potersi dire che raccontano eventi accaduti anziché profetare gesta future qui c'è una citazione del grande San Girolamo l'epistola 53 no? ora Gesù Cristo realmente morì adesso attenzione qui c'è la formalizzazione di una classica dottrina del grande San Tommaso d'Aquino la divinità però rimase sempre congiunta al corpo e all'anima cioè la questione è questa quando Gesù è morto come a tutti i morti succede una cosa che è appunto l'elemento costitutivo formale della morte l'anima si separa dal corpo ora però attenzione l'umanità di Gesù era ipostaticamente unita alla persona del verbo quindi la divinità dopo la separazione dell'anima e del corpo che è successo è rimasta solo nell'anima in tutte e due è rimasta solo nel corpo e non nell'anima è risposta il parroco spiegherà come per questa parola morto dobbiamo credere che Gesù Cristo dopo essere stato crocifisso realmente morì e fu sepolto quindi non si tratta di morte apparente è proprio morto morto non senza motivo tale fatto è proposto separatamente alla fede dei credenti essendosi da taluni negata la sua morte in croce queste eresie antichissime sorte nei primissimi tempi del cristianesimo e poi ogni tanto come accade nel corso della storia rispuntano come i polloni perversi da una radice malata ogni tanto si riciclano i santi apostoli ritennero necessario contrapporre a tale errore questa dottrina di fede sulla cui verità nessun dubbio è consentito avendo concordemente tutti gli evangelisti assedito che Gesù Cristo rese il suo spirito e qui ci sono le citazioni di tutti i patri evangeli Matteo 27 50 Marco 15 37 Luca 23 46 e Giovanni 19 30 che attestano inequivocabilmente il fatto della reale morte di Gesù del resto essendo vero e perfetto uomo Gesù Cristo poteva veramente morire la morte dell'uomo infatti non è altro che la separazione dell'anima dal corpo e questo ricordiamocelo sempre d'accordo stamattina ho celebrato un funerale e sapete in ogni funerale il Signore si ispira a qualche cosa molto difficile oggi fare omiglie durante le segui nel contesto in cui stiamo vivendo no? però dico ragazzi dobbiamo assegnarsi ad una cosa facile facile una volta che noi siamo stati creati la dissoluzione nel nulla del nostro essere non è possibile la morte non è nulla sotto certi punti di vista è tanto sotto altri ma non è nulla nel senso che il corpo muore perché l'anima si separa ma noi non possiamo cessare di essere chi si suicida in un gesto di disperazione dice voglio farla finita non voglio vivere più mi dispiace ma troverà qualche brutta sorpresa la vede che non suicida allora se c'era con la testa se ne va all'inferno se ha fatto un gesto disperato per cui non in condizioni estreme per tante situazioni che non conosciamo per cui Dio giudica che difetta il deliberato consenso a quell'atto il deliberato consenso che è necessario per compiere un peccato mortale in senso stretto si parla tanto di quel purgatorio è così duro che solo ricorda per tutta l'eternità però l'inferno non ci va in ogni caso troverà una brutta sorpresa perché non è che dice mi suicido e la faccio finita no non la fai finita non la possiamo fare finita non si può perché una volta che una cosa Dio l'ha creata quella cosa non cesserà mai di essere questo mettiamocelo bene in testa perché partecipa di ciò che Dio è Dio è la vita non è semplicemente ha la vita tanto è vero la gente si chiede ma come mai che Dio non ha sterminato il demonio non lo ha annientato Lucifero dopo il peccato che ha fatto perché Dio queste cose non le fa una volta che ha dato l'essere ad una creatura l'essere rimane certo se la creatura è una sciacurata una disgraziata e va a perdere l'amicizia con Dio e i suoi doni Dio glieli toglie tutti e infatti Lucifero è diventato Satana ed è eternamente dannato ma l'essere non te lo toglie il nostro Signore mai sarebbe una sorta di rinnegare se stesso e non lo farà mai proseguo la lettura riconoscendo che Gesù Cristo è morto vogliamo appunto dire che la sua anima si divise dal corpo ora attenzione non diciamo però che se ne separò anche la divinità ma crediamo e riconosciamo fermamente che separatasi l'anima dal corpo la divinità rimase sempre unita al corpo nel sepolcro e all'anima discesa agli inferi questa è la dottrina di Santo Ommaso quindi l'unione ipostatica non si è minimamente alterata perché la divinità di Gesù è rimasta congiunta all'anima e congiunta all'anima è disceso agli inferi per liberare tutti coloro anche i santi che in attesa della detenzione stavano nel cosiddetto limbo dei santi padri c'erano tutti eh Adamo Eva Abramo Mosè Isaia Gerenia Daniele San Giovanni Battista pure San Giovanni Battista morto martire pure San Giovanni Battista San Giuseppe stava lì ma come il più santo dei santi stava lì non era ancora stato pagato il debito della redenzione non era stata ancora compiuta la redenzione ripeto tu puoi essere pure San Giuseppe ma se non c'è chi ti libera dalla schiavitù del peccato chi paga in maniera perfetta i tuoi debiti con la stessa dignità del soggetto offeso in condizione di piena innocenza tu in paradiso non ci vai ci andava nessuno la divinità rimase sempre unita al corpo nel sepolcro e all'anima dicessa degli inferi era del resto opportuno che il figlio di Dio morisse per sconfiggere attraverso la morte il diavolo che il signore della morte e affrancare coloro che il timore della morte teneva per tutta la vita nei ceppi della schiavitù e qui c'è la citazione di ebrei 2.14.15 che è un passo fondamentale un passo da riflettere il diavolo tiene tutti sotto scacco perché cosa per il timore della morte qui si potrebbe fare una catechesi di un'ora soltanto su questa espressione io accenno qualcosa perché il modo di intendere questa frase è complesso allora gli uomini tutti hanno paura della morte tutti quanti e dinanzi alla paura della morte assumono l'atteggiamento più stupido e più idiota e più pericoloso che ci possa essere siccome mi fa paura non ci penso non pensare alla morte è quanto di più di più stupido si possa fare perché queste cose non si possono dire per esempio durante la celebrazione di un funerale ma noi non stiamo celebrando un funerale quindi io le dico lo sai che se tu non ci pensi con attenzione alla morte soprattutto a quello che ci può essere dopo tu rischi brutto perché in paradiso non si va in automatico come qualcuno vorrebbe far intendere oggi nei climi di follia collettiva che ci sono si sentono in certi funerali l'ho detto tante volte l'ho sentito con orecchie mie di persone come dire certo che soltanto Dio giudica la persona ma ci sono dei dati oggettivi che se sono dei dati oggettivi sono dei dati oggettivi se una persona muore che ne so che c'ha l'amica dentro casa e non ha mai messo piede in chiesa speriamo che il nostro signore come dire veda nella coscienza che si è pentito in punto di morte speriamo anche l'insperabile ma non si può mica andare a dire durante il funerale ci abbiamo l'angioletto nel cielo che prega per noi questo non si può dire questo qui non si può e non si deve dire punto primo perché tu chi sei per sostituirti al giudizio dell'altissimi i santi vengono canonizzati dalla chiesa dopo un processo che dura decine di anni ma puoi andare a dire una cosa del genere di una persona che da un punto di vista oggettivo ha dato una antitestimonianza i cristiani vanno ammissi tutte le domeniche a rendere culto minimo i cristiani non muoiono con l'amica dentro casa se c'hanno la moglie se tengono la moglie se non c'hanno nessuno vivono casti capite i cristiani non vestemmiano come turchi scusate quindi non pensi alla morte una persona è accampata così che fine fa? va in paradiso? io non voglio capire io amo chi mi conosce lo sa non amo fare le prediche come dire alla giro alla mosavola da l'inferno le cose dico guarda perché uno può dare anche l'impressione di essere un mezzo matto un mezzo invasato o un fondamentalista io non dico niente rifletti tu pensaci non c'è bisogno che io grido o che faccio discorsi da invasato rifletti pensa io amo far pensare il compito di un prete è far pensare le persone stimolare le riflessioni dopo ci devi arrivare tu da solo perché la vita è la tua dico sempre le persone dico guarda che davanti a Gesù quando muori ti ci presenti tu avevo la vita tua io devo rendere conto della vita mia e tremo al pensiero ma tu devi rendere conto della vita tua non ci vado io al posto tuo al giudizio particolare non ci va nessuno al posto tuo quindi cerca di pensarci prima che succede quando uno muore vanno tutti in paradiso con un tipo di vita abbiano fatto i santi il cardinal Sirio faceva sempre la battuta si guarda che per andare in paradiso ci devi credere e ti devi impegnare per andare all'inferno non ci devi né credere né impegnare basta semplicemente che via lo stato bravo perché come disse una botana a Fatima la stragrande maggioranza della gente che sta all'inferno è la gente che non credeva che esistesse io non ci credo nel diavolo non ci credere ma lui ci crede in te però sta tranquillo ci crede molto e fino a quando stai sul pianeta Terra noi abbiamo il nostro nemico che non fa nient'altro che sforzarsi di portarci all'inferno per torturarci per tutta l'eternità questa è una realtà questa qui eh Leonardo non tu mi fai mettere paura mo io devo stare con la psicosi che il diavolo vuole portarmi all'inferno non devi stare con la psicosi ma devi essere consapevole però perché poi una volta che questa cosa Dio non voglia dovesse accadere io quando celebro funerali ha voglia fa segni di croce io non la posso sapere grazie a Dio meno male queste cose dico questa è un'anima dannata non vi rendete conto che significa essere un'anima dannata cioè nel momento in cui tu lo percepisci lo capisci contestualmente capisci che quella cosa è chiuso hai finito over cioè è una sorte irreversibile per Mike Firenze e ti conto per tutta l'eternità allora il diavolo perché ci tiene c'ha tutto l'interesse che tu queste cose non ci pensi altro modo per intendere questa espressione è che siccome io ho paura della morte intesa in senso ampio quindi di tutto ciò che mi che mi causa dolore o sofferenza che cosa faccio pecco perché i peccati tutti i peccati hanno se no nessuno sarebbe peccatore hanno sempre un elemento come dire di fascino evidentemente che attirà la nostra attenzione ed è sempre quello che ci presenta il diavolo cioè non è che il diavolo se ti tenta all'adulterio ti fa vedere che ne so quanto sarebbe triste tua moglie o tuo marito se sapesse che tu l'hai tradito oppure la ferita che questa cosa imprime al sacramento del matrimonio una cosa allucinante o tutte le conseguenze o i guai che passerai perché anche se ti vai a confessare l'espiazione dell'adulterio valla a chiedere ai primi cristiani che cosa era l'espiazione del delitto ad ad adulterio non te la farà mai vedere questa cosa ti farà vedere la cosa positiva ti comincia a dire eh che però che pizza eh però io non sono contento eh però mia moglie non mi capisce e mio marito non mi vale bene questo invece è tanto caruccio è tanto gentile e vabbè tanto che sarà mai è una piccola la famiglia la tengo per carità non è che mi divorzio questa è la modalità ed è per questo che gli uomini cascano come all'occhi su queste cose quindi e che cosa c'è dietro il tentativo di sfuggire a ciò che ci provoca al dolore no? alla morte diciamo così in senso metaforico quindi ciò che ti fa soffrire come uno non vuole pensare alla morte così uno non vuole pensare vuole in qualche modo evadere da tutto ciò che fa soffrire perché la gente diventa alcolizzata perché si porta dietro come dire una montagna di pesi insostenibili nella coscienza e beve per dimenticare la storia assolutiva per cui alcuni si drogano è vero che alcuni bevono e si drogano perché come dire perché sono viziosi perché sono alcolizzati e perché vogliono provare lo sballo ma è vero che ci sono realtà si compiono queste cose preparere perché non ci voglio pensare mi causa una sofferenza psicologica intollerabile il contatto con la realtà con certe realtà e cerco di sfuggirne questo è azione attività satanica allo stato puro ora andiamo forse all'ultimo paragrafetto sì che insomma la morte di Cristo fu volontaria altro punto fondamentale della nostra meditazione il signore il Vangelo dice adesso lo cita nessuno me la toglie la mia vita io la offro da me stesso in Gesù Cristo si verificò questo di speciale che morì quando volle morire e sostenne una morte non già provocata dalla violenza altrui ma una morte volontaria di cui egli stesso aveva fissato il luogo e il tempo aveva scritto infatti Isaia 53,7 è stato sacrificato perché lo ha voluto cioè scusate ma forse qualcuno può pensare che tu ti puoi avvicinare a domine di Dio e togliergli la vita più sotto lo citano San Giovanni quando narra la cattura di Gesù non era soltanto lui questo particolare dice che quando Gesù arriva dice chi cercate Gesù il Nazareno sono io e caddero tutti giù per terra come la filastrocca dei bambini giro giro tondo casca il mondo casca la terra tutti giù per terra che cosa significa significa che li ha buttati tutti quanti li ha buttati tutti giù cioè lui è stato catturato perché si è fatto catturare non dimentichiamolo mai gli hanno messo le mani addosso perché il padre lo ha permesso e lui non lo ha impedito che forse hanno messo le mani addosso alla Madonna ci propasse qualcuno a toccare la Madonna Dio questo non ha permesso e se Dio una cosa non la permette ci può venire tutto quanto l'inferno messo insieme per questo che noi figli di Dio viviamo una vita così bella cioè io ne so qualcosa dell'odio che il diavolo ha contro questo povero prete non so che cosa c'è tanto da odiare in me perché sono soltanto un povero uomo un povero prete però vi assicuro insomma c'è abbastanza morto io non ho paura ma non perché mi sento un gradasso perché penso di essere chissà chi ma perché so perfettamente che il diavolo non può farmi nessun male se Dio non lo permette e se Dio lo dovesse permettere me lo prendo perché vuol dire che quel male il Signore lo permette ne ha tra virgolette bisogno perché vuole farci qualche cosa di buono e sarà molto utile per me e intorno a me punto e basta quando a Gesù Cristo gli dicevano se il servito di Dio scendi dalla croce non lo poteva farlo in qualunque momento poteva farlo poteva fulminarli a tutti poteva farlo il gesto da adesso miracolosamente scendo dalla croce mi svincolo dai chiodi e ti faccio vedere io chi sono poteva farlo poteva non l'ha fatto perché non ha voluto non perché non poteva questo è quello che ci a me non mi personalmente questa è una cosa che mi fa una devozione capite la grandezza ci fa capire anche la grandezza che hanno davanti a Dio le azioni volontarie no? noi siamo grandi davanti a Dio quando facciamo una cosa che potremmo anche non farla ma la facciamo perché la vogliamo fare ecco eh il signore stesso disse prima di sé della passione io do la mia vita per riprenderla di nuovo nessuno me la toglie ma io da me stesso la do e sono padrone di darla e padrone di riprenderla Giovanni 10 17 18 e Fatima ha fatto la data e sarà tranquillamente ripresa perché è risorto capite con chi abbiamo a che fare noi chi è il nostro signore Gesù Cristo circa poi il tempo e il luogo disse queste parole mentre Erode tendeva insidia alla sua incolumità no? vedete che bello come il catechismo ci fa tutto il collage l'interpretazione autentica dei passi evangelici no? dice Erode andate a dire a quella volpe ecco io scaccio i demoni e opero guarigioni oggi domani e il terzo giorno sono al termine ma oggi domani e il giorno seguente bisogna che io cammini perché non si ammette che un profeta muoia fuori di Gisusalemme Erode l'avrebbe ammazzato molto prima Gesù ma non l'ha permesso i farisei l'avrebbero ammazzato molto prima ma non l'ha permesso Erode il padre di Erode Antipa voleva ammazzarlo appena nato la strage degli innocenti ma Dio non l'ha permesso sono scappati quindi Gesù nulla compì contro la sua volontà per estraneo comando ma si offrì volontariamente e andando incontro ai suoi nemici sclamò eccomi qua sempre Giovanni dopo che li ha messi tutti giù per terra chi cercate? Gesù il Nazareno vi ho detto che sono io se dunque cercate me lasciate che gli altri se ne vanno adesso potete venirmi a prendere dopo che vi ho fatto capire che se volessi vi fulmina tutti quanti adesso potete venire sopportando dopo ciò che spontaneamente i crudeli sopportando dopo ciò spontaneamente i crudeli e i giusti tormenti che quelli che inflissero nella meditazione di tutte le sue pene amarissime ciò rappresenta senza dubbio il mezzo più potente per commuovere l'animo questo Gesù questa cosa l'ha fatta volontariamente e l'ha fatta per te poteva non farla e poteva sottrarvisi in qualunque momento non lo ha fatto perché non l'ho voluto fare cioè se a me mi prendono e mi dovessero legare a un'asta di una colonna e poi cominciano a massacrarmi a forza di flagelli se io sto legato non ci posso fare niente ma il nostro Signore poteva slegarsi in qualunque momento poteva paralizzare gli arti di quelli che lo stavano flagellando capite e non lo ha fatto perché non lo ha voluto fare ricordate quello che ho sempre detto che Dio può tutto ciò che vuole ma non vuole tutto ciò che può poteva fermarli? sì che poteva non lo ha fatto perché non ha voluto poteva non farsi catturare? certo che sì non lo ha fatto perché non ha voluto non perché non ha potuto perché Dio è onnipotente infatti se uno sopportasse per causa nostra dolori non già deliberatamente affrontati ma inevitabili certo potremmo scorgere in questo un beneficio ma mediocre ma se costui semplicemente per amore nostro soggiacesse con prontezza una morte cui poteva agevolmente sottrarsi allora il beneficio ci si farebbe così grande che nessuna gratitudine o riconoscenza sarebbe sufficiente che cosa possiamo fare noi dinanzi al nostro Signore per ricambiare quello che ha fatto? ah se qualcuno si inventa qualcosa da poco la diretta è finita intervenga in diretta e me lo dica non possiamo solo una gratitudine infinita possiamo fargli tutte le offerte di noi stessi che possiamo ma che cosa vogliamo dare? donde è agevole argomentare l'infinito ed eccellente carità di Gesù Cristo il suo merito sconfinato e divino presso di noi non dimentichiamole mai queste cose ci fermiamo qui ci diamo appuntamento alla prossima puntata sperando che sia come deve essere non troppo in là ecco ma tra una quindicina di giorni appunto così come deve essere Dio vi benedica la Santa Vergine mi protegga e siano sempre radati Gesù e Maria grazie a tutti